risposte concrete, non la faccio lunga, c'è un DEF settimana prossima dove la riduzione fiscale dovrà essere presente, i giornalisti sono curiosi e poi chiudo perché arrivi al Vinitaly e ti domandano tutto tranne quello che c'entra ovviamente con la manifestazione a cui stai intervenendo, io sono qua per incontrare produttori, agricoltori, amministratori, imprenditori vorrei solo dire, visto che li incontro quotidianamente, li ascolto quotidianamente, che non ci sono solo i grandi, ci sono anche i piccoli e i medi, anzi